Buongiorno, vi ringrazio di essere qui intanto, siamo tutti nella sessione 1 che è dedicata alle province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Allora io sono Rina Camporese, coordino al momento le sedi territoriali Istat di Trieste e Venezia. Allora siamo una cinquantina e quindi direi di cominciare così possiamo recuperare anche un po' il ritardo. Ora vi condivido brevissime slide iniziali così possiamo insomma vedere insieme di che cosa si tratta e di che cosa ci occuperemo oggi. Allora passiamo subito al programma, evito l'introduzione che mi ero preparata così lascio la parola ai relatori. Dunque avremo due gruppi di relazioni, un paio di relatori Istat che poi vi presenterò nel dettaglio e parleranno appunto dei dati censuari e dei dati delle rilevazioni speciali Covid che sono invece molto più aggiornate e attuali. Dopodiché avremo invece una parte dedicata a relatori esterni di cui apprezziamo molto in contributo perché ci daranno una visione esterna più di prospettiva e quindi li ringrazio fin d'ora per aver accettato di partecipare a questo evento. I tempi che avevamo previsto li dobbiamo un pochino ridurre ma insomma non dovremmo avere grandi problemi. Quindi io chiudo la mia brevissima presentazione e darei subito la parola proprio ai relatori. Partiamo da Carlo Deklic, è un ricercatore della sede Istat di Venezia e ha esperienza di analisi economiche e di povertà. Ci presenta i dati territoriali, i principali dati che provengono dal censimento imprese. Il titolo del suo intervento è, lo leggo, struttura, comportamento e strategie delle imprese. Quindi gli do rapidamente la parola. Carlo tu sai che hai 17-18 minuti e quando ne mancano tre io ti avviso. Grazie. Perfetto, buongiorno a tutti. Grazie Rina, grazie agli altri relatori. Per parlare di struttura, comportamento e relazioni delle imprese avrei bisogno di due ore. Quindi in realtà io adesso farò, scusate intanto che condivido lo schermo. ok dovrebbe vedersi bene. Farò una il mio ruolo è appunto quello di portarvi un po' nei contenuti di questo censimento ma proprio a volo d'uccello perché l'intervento sarà molto rapido quindi cercherò di estrapolare le cose un po' più interessanti eh rimandandovi per tutto il resto ai fascicoli regionali eh e agli allegati statistici che trovate sul nostro sito. Eh diciamo appunto quindi sono i dati del censimento delle imprese che è del duemiladiciannove relativo a dati del duemiladiciotto e quindi è un'epoca fa nel senso che non è solo tre anni fa ma che tre anni sono passati da allora quindi eh non è casuale che poi dopo di me parlerà Roberto sulle eh che andare sulle indagini che lì stata fatto proprio per rilevare quello che è successo dopo il duemiladiciannove però ci serve fare il punto su questo proprio per capire sul censimento per capire un po' qual era il punto di partenza e come poi si è affrontato il eh tutti i i i i i i quattordici mesi che sono seguiti insomma gli ultimi quattordici mesi con le crisi che ci sono state quindi eh in totale più o meno questi sono i dati strutturali il in tutto il nord est eh sostanzialmente le imprese sono ci erano nel duemiladiciotto circa centocinquanta mila la parte del Leone la faceva il Veneto con oltre centomila imprese e poi Friuli Venezia Giulia Trentino e Alto Adige interessante vedere al almeno le variazioni rispetto al censimento precedente che era del duemila e undici e vediamo che solo l'Alto Adige ha visto una crescita nel numero di imprese di circa il cinque per cento mentre tutte le altre aree hanno visto una diminuzione in particolare in termini percentuali è più alta quella del Friuli Venezia Giulia che in cui le imprese sono calate del cinque e mezzo per cento va notato comunque che il numero di addetti invece è cresciuto non solo per l'Alto Adige ma anche per il Veneto e anche in Trentino e in Friuli Venezia Giulia è calato ma meno del calo del numero di imprese questo che vuol dire sostanzialmente che è aumentata la dimensione delle imprese negli anni tra i due censimenti. Qui proprio molto velocemente cercherò appunto di andare veloce per recuperare un po' di tempo. Cosa possiamo dire da questa slide che riassume qualche numero in più? Che ci sono micro imprese quindi quelle eh la quota di micro imprese è molto alta in tutti i territori un po' più bassa in Alto Adige che invece vede un numero maggiore di imprese piccole cioè sotto i cinquanta addetti eh che ovunque più o meno si riduce la quota di micro imprese cioè l'eccezione del Trentino e aumenta la quota di piccole, medie e grandi imprese quindi aumenta la dimensione aziendale l'abbiamo già detto prima e che eh procede come dire il processo di terziarizzazione dell'economia perché la 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 quota di imprese industriali diminuisce eh e aumenta la quota di imprese appartenenti al settore dei servizi eh sulla proprietà eh il controllo delle imprese eh vi faccio solo vedere questo cartogramma in cui si vede sostanzialmente che eh la quota di imprese eh che sono eh la cui proprietà è delle famiglie o persone fisiche è eh sostanzialmente ehm più alta nel nella provincia di Belluno e nella provincia di Padova se non consideriamo le micro imprese invece è la provincia di Bolzano ad essere molto alta nel nord-est al terzo posto in Italia e poi seguono le altre il Veneto e invece a Friuli Venezia Giulia e Trento sotto la media italiana scusate ecco eh a questo proposito vi do qualche raguaglio su dei focus sul passaggio generazionale questi focus sono delle approfondimenti che ci sono presenti nei nei fascicoli di Trentino Alto Adige e Veneto non nel rapporto del Friuli Venezia Giulia ma ci sono comunque negli allegati statistici anche del Friuli Venezia Giulia eh cosa ci dicono qui che il passaggio generazionale è stato abbastanza marcato anche rispetto alla media italiana in Alto Adige e anche in Trentino e Veneto mentre in Friuli Venezia Giulia si sono verificate meno eh la quota di imprese che hanno affrontato un passaggio generazionale è stata inferiore eh in ogni caso questo poi si può vedere nell'allegato statistico quando si va nel dettaglio ehm la quota di imprese che hanno affrontato un passaggio generazionale tendenzialmente aumenta l'aumentare della dimensione aziendale mentre rispetto al settore di attività non è univoco univoco l'andamento cioè in alcuni casi è più alto nei servizi come vedete ad esempio provincia di Bolzano in altri casi eh nella nell'industria ad esempio la provincia di Trento eh questo è interessante ehm eh a sinistra trovate la quota di imprese che non hanno incontrato nessun ostacolo al passaggio generazionale per la provincia di Bolzano è una quota molto elevata cioè il oltre il quarantotto per cento superiore anche alla media di italiana mentre invece provincia di Trento Veneto Friuli Venezia Giulia ancora di più hanno una quota minore quindi sembra che abbiano incontrato più ostacoli al passaggio generazionale quali sono questi quali possono essere quali quali ci hanno detto le imprese che sono questi ostacoli al passaggio generazionale beh ehm ci sono alcune differenze tra i territori allora le difficoltà burocratiche sono un fattore importante e abbastanza uniforme tra i vari territori ehm l'assenza di eredi invece è una cosa che si manifesta particolarmente per il Veneto il Friuli Venezia Giulia meno per Trentino e Alto Adige ehm interessante la difficoltà nel trasferire le competenze che è abbastanza anche qui c'è un po' di più in Veneto Friuli Venezia Giulia e faccio notare anche come i conflitti familiari per l'Alto Adige siano un ostacolo che relativamente alle altre zone è abbastanza importante cioè arriva quasi al dieci per cento mentre nelle altre zone più sul sul cinque ecco come ostacolo al passaggio generazionale passando agli obiettivi strategici che le imprese ci hanno dichiarato per il triennio successivo quindi per il diciannò duemiladiciannone duemilaventuno poi come dire è tutto da vedere se questi obiettivi strategici siano stati realizzati nel duemiladiciannone duemilaventuno comunque è interessante vedere che eh vi è una netta prevalenza in tutte le aree eh di obiettivi difensivi cioè vedete le prime eh barre orizzontali eh corrispondono alla voce difendere la propria posizione competitiva mentre gli obiettivi espansivi quindi offensivi sono eh inferiori e comunque differenziati per territori cioè vedete la eh per ad esempio eh Friuli e Venezia Giulia e Veneto hanno una maggiore prevalenza di questi obiettivi di questo tipo di ovviamente le imprese potrebbero dichiararne più di uno eh di di obiettivo ehm ma eh appunto quindi Veneto e Friuli Venezia Giulia eh avevano ehm hanno indicato un eh aumento dell'attività sia in Italia sia all'estero e anche l'accesso a nuovi segmenti di mercato come un obiettivo eh per il triennio che veniva mentre Trentino Alto Adige e ehm Trentino Alto Adige in realtà meno. Le imprese trentine hanno eh si distinguono diciamo per l'ampliamento della gamma dei servizi offerti e quelle alte ottesine per gli investimenti in nuove tecnologie e anche per un un certo aumento dell'attività ma solo all'estero. Questa è una parte abbastanza che ho trovato abbastanza interessante che vorrei dirvi queste due tre slide che ci sono. Allora intanto eh riguardanti quindi le risorse umane cioè sostanzialmente l'aumento di occupazione. Eh le nuove acquisizioni quindi le nuove assunzioni sostanzialmente hanno eh sono state abbastanza elevate in Alto Adige e comunque eh superiori alla media italiana sia in Trentino sia in Pedeto. Eh ovviamente la propensione ad acquisire personale aumenta con la classe dimensionale ed è più alta nell'industria rispetto ai servizi addirittura in Alto Adige arriva al settantadue per cento. Eh va detto che eh la tra parentesi nella nella cartina di sinistra trovate anche la quota di assunzione a tempo indeterminato invece eh è in tutte le aree più bassa della media italiana. Quello che è poi interessante è anche questo. Quali sono gli ostacoli che ci hanno indicato le imprese come mh più rilevanti per l'acquisizione di eh nuovi nuovo personale. Allora vi è sicuramente qui l'Alto Adige mostra un profilo molto diverso dalle altre aree. Eh sicuramente il costo del lavoro elevato è una eh è un fattore che viene indicato da una quota maggioritaria di imprese in particolare in Trentino Veneto e Friuli Venezia Giulia mentre in Alto Adige è comunque rilevante ma eh più basso. Eh emerge però comunque anche la difficoltà di reperimento del personale di personale specializzato come uno dei principali ostacoli all'acquisizione di risorse umane. Questo fattore poi è decisamente prevalente in Alto Adige sia vedete la prima colonna la la secondo gruppo di di barre e l'Alto Adige è il più alto di tutti ed è anche il fattore è più alto proprio per che viene indicato dalle imprese altoatesine ma anche la il terzo nel terzo gruppo di colonne si vede che l'Alto Adige stacca diciamo. Qual è quindi un quindi c'è un problema sostanzialmente di trovare lavoratori specializzati in Alto Adige ma anche negli altri territori perché comunque anche negli altri territori era era importante questo fattore. Quindi eh qual è una possibile soluzione che hanno visto le imprese quello di fare formazione. Vedete che eh in tutti i nostri territori con l'eccezione delle province di Belluno, Gorizia, eh Venezia ma insomma ecco è abbastanza colorato di blu scuro il nord-est. Ecco cosa vuol dire che in queste aree è massima la quota di imprese che investono e che fanno una formazione non obbligatoria quindi non quella eh relativa alla sicurezza ad esempio eh ai propri lavoratori e quindi eh immaginiamo che questa sia una risposta che viene data proprio per cercare di formare lavoratori che prendono formati perché non non li trovo quelli quelli specializzati. Eh va notato che comunque la formazione non è eh molto diffusa nelle imprese nel senso che anche nelle nostre aree in cui è massima eh la svolge meno di un'impresa su due poi ci sono aree del del sud Italia o della Toscana dove si arriva anche a una su cinque però anche diciamo nella nostra nelle nostre regioni è abbastanza insomma non è una eh non è diffusa così tanto ecco è sotto il cinquanta per cento. Su questa direi che la salto in accordo con Rina perché appunto dobbiamo sbrigarci e ci sono altre slide che trovo più interessanti quindi scusatemi e ve la vedrete nelle 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 nei fascicoli regionali ecco questa slide invece sulla localizzazione dei mercati è abbastanza interessante perché ci dice che eh le imprese di tutto il nord-est in generale eh operano appunto prevalentemente su mercati locali ed è il primo il primo gruppo di barra in alto addirittura il comune di localizzazione dell'impresa o altri comuni della stessa regione. Mh il grafico sopra dalla provenienza dei ricavi il grafico sotto la localizzazione dei concorrenti sono un po' diversi e per questo ve li ho messi tutti e due ma diciamo che il messaggio è il messaggio generale rimane cioè i i mercati sono abbastanza localizzati per le imprese eh del nord-est sicuramente l'ampiezza dei mercati cresce all'aumentare della dimensione aziendale ed è più ampio per le industrie in senso stretto rispetto alle costruzioni e ai servizi. Eh va detto che comunque ci sono differenze tra i territori questa è la tendenza generale che ho dato dopodiché è evidente che eh si vede chiaramente dai grafici ma insomma anche dalla conoscenza un po' dei territori in alto addirittura è molto alta la quota di aziende che operano nello stesso comune e in cui i concorrenti sono nella stessa regione e hanno anche una quota rilevante le imprese alto tesine di ehm di concorrenti e di provenienza dedicati dai paesi dell'Unione Europea non dalle altre regioni italiane. Eh Veneto e Friuli Venezia Giulia invece si distinguono eh se dobbiamo vedere le differenze territoriali per una certa maggiore apertura dei mercati vedete ad esempio le colonne delle paesi extraeuropei eh cioè delle dei paesi europei al di fuori dell'Unione Europea e anche quelli del resto del mondo dell'area BRIC sono decisamente più marcati per il Veneto e il Friuli Venezia Giulia rispetto al Trentino Alto Adige quindi questi sono i poi due messaggi che scusami Carlo hai due minuti perché non ho voluto interrompere la presentazione della slide allora questo lo salto eh interessante la capacità competitiva delle imprese abbiamo chiesto quali sono i punti di forza e i punti di debolezza che le imprese vedono per la propria capacità competitiva come punti di forza sicuramente la qualità è abbastanza uniforme tra territori la qualità dei prodotti e la professionalità del personale viene visto interessante in Alto Adige la localizzazione dell'impresa a conferma di quello che dicevo prima viene ritenuto un importante eh fattore di capacità competitiva punti di debolezza anche qui è molto interessante perché anche qui come dicevo prima accanto agli oneri amministrativi ma la mancanza di personale la difficoltà reperire personale sono indicati con molta frequenza come un punto di debolezza che frena la capacità competitiva delle imprese eh fonti di finanziamento qui possiamo dire molto rapidamente che vi è una quota elevata di imprese che dichiarano di finanziarsi tramite mezzi propri anche se nel grafico di sinistra nel di destra scusa scusate si vede che vi è una quota di imprese che comunque anche ad esempio in Trettino Alto Adige dichiarano che il grado di dipendenza dalle fonti esterne di finanziamento è elevato o molto elevato quindi eh molte si autofinanziano ma altrettante dicono dichiarano un grado di finanziamento di di dipendenza elevato da fonti esterne di finanziamento. ehm ultima cosa i comportamenti sostenibili delle imprese ehm abbiamo una una per quota di imprese che hanno eh comportamenti sostenibili abbastanza in linea con il totale italiano ehm sono prevalenti il le azioni rivolte a incrementare i livelli di sicurezza dell'impresa e a migliorare il benessere lavorativo e ridurre l'impatto ambientale meno e comunque più diffuse nei servizi nelle imprese dei servizi quelle tese e nelle piccole imprese quelle tese a eh realizzare iniziative per il tessuto produttivo o per iniziative di interesse collettivo proprio velocissime alcune chiavi di lettura che ho individuato ehm più variabili ad esempio relative ai mercati accesso ai mercati alla capacità competitiva sembrano dirci che la dimensione delle aziende è ancora subottimale malgrado siano cresciute ma eh proprio per quello che ho detto cioè ci sono fenomeni di mismatch tra domanda e offerta di lavoro la difficoltà a reperire persone qualificate è un importante freno allo sviluppo della capacità competitiva quindi la dimensione subottimale ma in qualche modo hanno difficoltà a crescere le imprese infine sembra abbastanza importante per le imprese i temi della sicurezza e della sostenibilità ambientale in particolare le imprese medie e grandi e ho finito la corsa e vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Carlo grazie per la corsa ringrazio te ringrazio in anticipo tutti gli altri relatori. Allora passiamo subito se puoi togliere la condivisione grazie e passiamo subito a Roberto Costa allora anche lui è un ricercatore Istat alla sede di Trieste e mi affianca nel coordinare la sede. Oggi ci presenta una selezione di alcuni risultati delle rilevazioni speciali covid proprio svolte durante la pandemia e il titolo del suo intervento è situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria. Grazie Roberto. Roberto il microfono eccomi qua buongiorno a tutti a tutte e tutti il mio intervento si basa come ha già anticipato sulle due indagini condotte dall'Istat dal nome situazione e prospettive delle imprese nell'emergenza sanitaria covid-19. Come chi ha partecipato anche alla sessione plenaria ha potuto ascoltare in precedenza la prima rilevazione si è svolta tra l'8 e il 29 maggio quindi nella fase conclusiva del lockdown quindi il periodo sicuramente più difficile più duro per quanto riguarda le imprese. La seconda invece tra il 23 ottobre e il 16 novembre sempre del 2020 in corrispondenza con l'acuirsi della cosiddetta seconda ondata della pandemia. Ogni rilevazione ha interessato un campione di circa 90.000 imprese di tre addetti e più appartenenti a un gruppo di settori quelli dell'industria del commercio e dei servizi. I risultati sono stati diffusi con due statistiche report a giugno e a dicembre che potete trovare nel nel sito dell'Istat nella sezione dedicata hashtag Istat per il paese. Le informazioni raccolte ci hanno permesso di individuare alcuni profili di comportamento delle imprese italiane in risposta all'emergenza sanitaria ed economica in atto. La caratteristica della rilevazione che a me piace evidenziare è la tempestività che ha contraddistinto ognuna delle fasi del processo produttivo statistico quindi dalla durata della rilevazione che è diciamo molto più breve rispetto alle nostre abitudini anche ai tempi di elaborazione e diffusione dei risultati. Le dimensioni che hanno definito il perimetro delle imprese oggetto di rilevazione sono state l'attività economica, la dimensione d'impresa e il territorio. Purtroppo non è possibile analizzare contemporaneamente le tre dimensioni. Di conseguenza mi dovrò limitare all'ultimo ovvero il territorio con l'obiettivo di approfondire alcuni temi di un'indagine così ampia, di due indagini così ampie e quindi mi concentrerò sull'impatto economico della pandemia, sulle procedure di precauzione e contrasto della diffusione del covid-19 e su gestione e politiche del personale. Partiamo da un primo dato che avete sentito anche nella sessione diciamo plenaria. Nella fase 1 dell'emergenza sanitaria quasi metà delle imprese, il 45% delle imprese con tre addetti e più ha dovuto sospendere l'attività o per appunto a seguito del lockdown che ha individuato delle attività economiche che dovranno necessariamente chiudere oppure per scelta aziendale seppur in piccola, in misura decisamente minore. Mentre poco più di un terzo ha potuto continuare la propria attività senza interruzioni. Come vedete ci sono delle piccole differenze perché mentre nelle province di Bolzano e in Friuli Venezia Giulia la quota di attività che non hanno mai sospeso, di imprese che non hanno mai sospeso l'attività è sostanzialmente in linea col dato nazionale, nella provincia di Trento e in Veneto questa percentuale è sicuramente più contenuta. Andando avanti, un secondo dato molto interessante in questa carrellata spot sull'impatto economico riguarda il calo del fatturato. L'avete sentito anche prima, nella prima fase il calo del fatturato è stato sicuramente molto più importante e le imprese lo hanno sentito in misura molto più pesante. Sono circa il 40% in Italia le imprese che hanno dichiarato un calo del fatturato superiore al 50% nel primo periodo, quindi da marzo-aprile, la quota si riduce di quasi tre volte nel secondo periodo, da giugno-ottobre. Come vedete, guardando il territorio da noi preso in considerazione, se nella prima fase i dati sono molto allineati e per un paio di zone come la provincia di Trento e Friuli Venezia Giulia la percentuale è anche leggermente superiore, invece nella seconda fase, quindi da giugno-ottobre la percentuale di imprese che hanno avuto un calo del fatturato superiore al 50% è sempre sotto la media nazionale. Quindi segno forse di una migliore capacità nell'affrontare questa ripartenza. Andando avanti abbiamo chiesto anche di fare una previsione, quindi la previsione di che cosa succederà sempre al fatturato nel periodo da dicembre 2020 a febbraio 2021 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In questo caso è interessante vedere intanto come prima cosa che è alta la componente di incertezza. Il non sa a livello nazionale sfiora il 20% e addirittura superiore in provincia di Bolzano. Questo si può anche facilmente immaginare se pensiamo a quante erano le incertezze in quel periodo relativamente a quella che si stava per avviare, quindi una stagione turistica che se dal punto di vista meteorologico prometteva molto bene, dal punto di vista della pandemia non prometteva altrettanto bene. Quindi con profonda incertezza e dubbi sulla possibile ripartenza. Come vedete è più del 50% la quota di imprese che teme un calo del fatturato superiore del 10% a cui possiamo assommare anche quello che era già successo prima. Una quota di circa un quarto si colloca in una fascia intermedia tra un calo contenuto e una crescita contenuta. C'è anche una fetta di ottimisti intorno all'1% che prevede un aumento. Un altro tema che è stato affrontato appunto parlando di impatto diciamo economico della pandemia e quindi non è solo il calo del fatturato ma anche l'aumento dei costi a seguito delle misure sanitarie organizzative di contrasto al covid-19. Qui ho riportato le quattro voci che per le imprese sono risultate quelle che hanno introdotto dei costi più rilevanti per l'impresa. Al vertice trovate per quasi due imprese su tre la sanificazione degli ambienti di lavoro. È interessante vedere come tra territori ci siano delle differenze quindi con una differenza di quasi 17 punti percentuali tra la percezione nella provincia di Trento dove quasi 7 imprese su 10 hanno ritenuto queste spese rilevanti e nella provincia autonoma di Bolzano dove invece il numero di imprese si situa su poco più di 1 su 2. Le altre voci che hanno impattato in modo rilevante sui costi sostenuti dalle imprese sono quelle relative alla fornitura di informazioni connesse alla gestione dell'emergenza sanitaria e alla formazione specifica per i lavoratori e per gli addetti alla sicurezza sanitaria e alla gestione delle procedure informative in caso di esposizione al potenziale contagio in caso di sintomi di covid-19. Quello che è interessante vedere è che per queste tre voci la situazione nel triveneto è migliore rispetto alla media nazionale poiché la percezione della rilevanza delle spese è inferiore rispetto alla media nazionale. Di conseguenza poi qui ci possiamo ricollegare forse la slide vista anche prima in una zona dove l'aspetto formativo non obbligatorio è visto come una pratica se non diffusa comunque più diffusa rispetto al territorio nazionale e anche in questa occasione le imprese non si sono fatte trovare in preparate. Il secondo aspetto che abbiamo preso in considerazione quindi eh quello che riguarda le procedure di precauzione per evitare la la diffusione del contagio eh per covid-19 da questo punto di vista eh un primo un primo dato che abbiamo rilevato riguarda eh il numero di imprese che hanno apportato modifiche agli ambienti di lavoro al fine di garantire la il distanziamento quindi eh per esempio l'uso di barriere, il plexiglass, la segnaletica, eccetera. Come vedete in provincia di Bolzano le imprese sono state eh sicuramente le più attive quasi otto su dieci sono intervenute in questo in questo senso mentre nelle altre aree del triveneto che abbiamo preso in considerazione il numero di imprese è inferiore al alla media alla media nazionale e se andiamo avanti possiamo vedere eh una serie di eh specifiche misure di gestione del personale per far fronte all'emergenza sanitaria e che hanno avuto un diverso impatto nelle varie fasi della pandemia in queste slide mettiamo a confronto i le stesse voci così come sono uscite nella prima indagine quindi nel colore eh celestino più chiaro e nella seconda indagine con un colore blu più scuro come vedete la cassa integrazione guadagni è stata sicuramente la misura che eh è cassa integrazione e strumenti analoghi come ad esempio il fondo di integrazione salariale o il fondo di solitarietà bilaterale dell'artigianato è stata sicuramente la misura più utilizzata sia nella prima fase eh che eh nella seconda mh nella prima fase ha quasi riguardato a livello nazionale due imprese su tre con un minore impatto in Friuli Venezia Giulia nella seconda fase invece ha riguardato circa quattro imprese su dieci anche in questo caso in nel nell'intero Triveneto seppure con piccole differenze nelle varie aree il ricorso alla cassa integrazione guadagni o strumenti analoghi è stato leggermente inferiore alla media nazionale la seconda la seconda misura è stata la riduzione delle ore eh di lavoro o dei turni del personale anche in questo caso eh tre imprese su dieci hanno ridotto le ore eh di lavoro o i turni eh in particolare va notato come ehm in provincia di Bolzano la eh non ci sono differenze tra la prima e la seconda fase mentre nelle altre aree il eh la differenza eh si vede in seppure eh con cali meno marcati rispetto alla cassa integrazione un altro strumento scusami Roberto intervengo perché hai tre minuti però eh segnalano che c'è qualche problema di visualizzazione ehm delle slide puoi provare a inserire la modalità schermo intero? Eh dovrei averlo fatto anche tu se l'hai già fatto allora forse è un problema di di chi ci segue ora magari questo lo lasciamo alla regia a te mancano tre minuti meno i secondi che ti ho rubato grazie perfetto sì sì ce la posso fare allora eh altri altri strumenti come vedete eh eh interessanti sono quelli legati sia al lavoro a distanza allo smart working eccetera su questo andrei molto veloce perché come vedete eh la tendenza nazionale e quella delle varie aree è mh abbastanza simile con l'eccezione del Friuli Venezia Giulia che soprattutto nella prima fase ha visto un'impresa su quattro fare ricorso allo smart working e un altro strumento sono state le ferie obbligatorie o altre misure temporanee per appunto la riduzione dei costi in questo caso mentre eh per Bolzano il ricorso alle ferie obbligatorie è stato inferiore alla media nazionale nelle altre aree prese in considerazione questo strumento è stato usato molto eh più frequentemente sia nella prima che nella seconda eh fase eh diciamo della pandemia eh gestione politica e personale è interessante vedere come le imprese hanno percepito l'impatto dello smart working o comunque del lavoro a distanza rispetto ad alcune attività dell'impresa e il tema della produttività del lavoro come vedete è stato visto in modo molto diverso eh se quasi tre imprese su dieci a livello nazionale hanno percepito questo aspetto come negativo eh con l'introduzione dello smart working eh vedete la la situazione eh diciamo felicemente eh differente della delle imprese della provincia di Trento dove quasi nove su dieci hanno dichiarato che eh è stato diciamo non ha portato lo smart working non ha portato effetti eh diciamo negativi sulla produttività e eh solo una su dieci ha eh ha dichiarato effetti negativi sui costi operativi eh anche in questo caso eh è la provincia di Trento che dà un segnale particolare rispetto alle altre perché quattro su dieci quasi quattro su dieci eh quattro su dieci hanno dichiarato che eh l'introduzione dello smart working ha influito eh diciamo positivamente riducendo i costi operativi. È diverso invece la percezione in Friuli Venezia Giulia dove tre su dieci hanno avuto appunto un'opinione diversa. Sto arrivando eh quasi in conclusione guardiamo ancora queste due eh slide anche qua efficienza nella gestione dei processi sicuramente la distanza non ha favorito eh l'efficienza nella gestione dei processi anche in questo caso la provincia di Trento è quella che eh si colloca eh diciamo in misura leggermente diversa rispetto alle altre con tre imprese su quattro che dichiarano che non c'è stato nessun effetto sull'efficienza della gestione dei processi e infine gli investimenti nella formazione del personale e anche in questo caso è interessante vedere come ci sia una regione che eh fa un po' da da chiamiamolo da Pierino il Friuli Venezia Giulia dove una su quattro ha aumentato gli investimenti nella formazione del personale mentre a Trento nove su dieci non hanno modificato questa eh diciamo questi investimenti. un ultimo accenno eh lascio stare sull'adozione delle nuove tecnologie e passo al benessere del personale qui è molto interessante a Trento eh sei imprese su dieci percepiscono un miglioramento un aumento del benessere del personale e sul versante opposto nel le imprese della provincia di Bolzano per tre su dieci c'è una diminuzione del benessere del personale e questo è interessante perché negli altri territori come vedete la barra grigia dell'area più sfavorevole è sostanzialmente analoga al dato nazionale. Ecco chiudo con mh alcune considerazioni. Allora le conseguenze... Alberto scusami hai proprio finito il tempo ma le chiusure si fanno. Questo è proprio velocissimo e dunque le conseguenze della pandemia come abbiamo visto sono state profonde e pervasive e hanno in qualche modo influenzato le imprese e tutto il sistema produttivo. La capacità di resilienza è connessa anche a quelle che sono state le strategie per contrastare gli effetti delle crisi. Da questo punto di vista più di metà delle imprese del Triveneto ha previsto una qualche forma di reazione a questa situazione di difficoltà che si colloca sia nelle cosiddette strategie espansive quindi produzione di nuovi beni e servizi o individuazione di nuovi canali di commercializzazione anche se non mancano ma l'avevamo già visto nelle slide presentate dal mio collega Carlo ci sono strategie di contrazione come per esempio la riduzione del personale chiudo con un ultimo dato che non è tratto dalle nostre indagini ma dall'indagine movimprese di infocamere che può essere visto con un cauto cauto ottimismo. Allora per la prima volta dopo tanti anni nel primo trimestre dell'anno in questo caso del 2021 il saldo tra imprese iscritte e cessate a livello nazionale di segno positivo. Confidiamo che sia un segno concreto della capacità di resilienza delle nostre imprese che abbiamo richiamato poco fa tra attese sull'evoluzione della pandemia e aspettative di rilancio legato al piano nazionale di ripresa rilancio di cui abbiamo sentito parlare prima. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Roberto grazie a te. Allora visto che i relatori proprio sono bravissimi a stare nei tempi rilancio lo spazio delle domande perché come qualcuno ha già scoperto c'è un bottoncino domande e risposte in cui i partecipanti possono inserire le domande magari ne faremo una selezione al termine delle relazioni ne ne porremo se riusciamo una a ciascun relatore. Do la parola adesso ai relatori esterni e che allargeranno proprio lo sguardo in modo da abbracciare tutta la complessità dell'argomento che stiamo affrontando oggi e leggendo un po' le loro presentazioni ho notato che tutti affrontano in modo più o meno diverso l'aspetto delle relazioni, le relazioni tra aziende, tra persone e cambiamento e tra il locale e l'internazionale. Sono queste le chiavi che insomma io estrapendo dall'insieme dei loro contributi. Quindi inizia Gianluca Toschi che è un ricercatore senior in fondazione Nord-Est e anche docente di economia internazionale dell'integrazione europea all'Università di Padova. Ci parla di upgrading, cioè di come le imprese del Nord-Est possono potenziarsi e ammodernarsi e ci propone un titolo che è abbastanza intrigante perché continua una parola che uno non si aspetterebbe proprio in un titolo di una sessione sull'economia e dice così è possibile essere fornitori felici in una catena di valori? Sì, grazie Gianluca, te la parola. Benissimo, grazie a voi per l'invito. Sì, abbiamo intitolato questo lavoro che è appunto frutto di un gruppo di ricerche che poi presenterò, è possibile essere fornitori felici in una catena del valore. È ovviamente un titolo provocatorio che in qualche modo appunto deve richiamare l'attenzione su una questione che a noi appare rilevante. E appare rilevante perché? Riprendo alcuni dati che sono stati pubblicati nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi, in parte già richiamati stamattina sia nella relazione di Blangiardo che poi in quella di Kelly e anche nelle relazioni precedenti, che sostanzialmente, e che appunto nascono e sono il frutto anche delle due rilevazioni presentate nella presentazione precedente, che pongono l'attenzione su un paio di questioni che a noi parivano molto interessanti. Certo c'è la questione dimensionale, abbiamo visto il dato drammatico sotto i dieci addetti, una quota davvero rilevante delle imprese, sia manifatturiere che dei servizi, si trovano in una situazione di grave difficoltà e quindi sarebbero esposte ad un nuovo shock esogeno in maniera molto pesante. Sottolineo però due elementi che in qualche modo rappresentano il legame tra il lavoro di Fondazione Nordest che presento oggi e appunto alcune delle conclusioni ai quali si giunge nel rapporto sulla competitività dei settori produttivi. E sono quelle in nero, cioè la capacità di esportare si riflette in una maggiore capacità di tenuta e c'è questa logica che non è solo appunto legata alle esportazioni ma anche se vogliamo a nuove forme di apertura non solo delle imprese ma dei sistemi diciamo locali e dei tessuti locali di imprese. Dall'altra parte un altro elemento che a noi pare rilevante è l'evoluzione della crisi ha determinato un'accelerazione nella trasformazione digitale. Allora qui ci stanno sì certo delle politiche di upgrading come ricordavi tu in precedenza, c'è in realtà appunto una dimensione di revisione dei processi ma anche delle formule di business da parte dell'impresa anche grazie appunto alla digitalizzazione del business. Allora i dati che presenterò appunto oggi sono i dati di un lavoro che stiamo facendo ancora in corso sono i primi risultati con Scirafano di Fondazione Nord-Est e con Giancarlo Corò di Giafoscari ho citato proprio tre tre lavori che in qualche modo definiscono il territorio nel quale ci stiamo muovendo. Ci stiamo occupando sostanzialmente di imprese nelle catene del valore, ci stiamo occupando di processi di upgrading di queste imprese, ci stiamo occupando della questione della governance all'interno delle catene non solo globali ma delle catene del valore in generale. Quindi questo è un po' il contesto, il territorio nel quale ci stiamo muovendo. Allora quelli che vi presento oggi sono appunto i risultati di una rilevazione che abbiamo condotto sulla fine dell'anno scorso tra il terzo e il quattro trimestre del 2020, quindi che avevano già scontato l'elemento appunto del primo lockdown, anche se in realtà noi ci siamo concentrati su questioni di carattere strutturale. Allora perché, intanto la prima domanda che uno dovrebbe sempre porsi quando comincia queste ricerche, ma è davvero un tema rilevante? Beh sì lo è, perché? Perché si scopre che appunto quasi la metà delle imprese, delle medie imprese manifatturiere, quindi che sono quelle che noi abbiamo intervistato, quindi 50-250 addetti della manifattura nelle tre regioni del nord-est, quasi la metà appunto produce beni intermedi e poi ce n'è un altro quasi 17-18% che produce beni strumentali. Quindi una quota rilevante di queste medie imprese manifatturiere del nord-est sono direttamente interessate da questioni che riguardano appunto la gestione delle catene del valore. Abbiamo stimato il numero di queste che sono appunto coinvolte nelle catene del valore, viene fuori un numero 64-7%, devo dire che è una stima prudente perché nel modo con cui l'abbiamo costruito, insomma abbiamo ritagliato questa appartenenza alle catene del valore in maniera appunto un po' prudente, probabilmente questo dato sottostima la realtà. I dati che abbiamo raccolto ci permettono anche di aggiungere un'informazione, quante di queste lavorano in catene del valore prevalentemente italiane, quante lavorano invece in catene del valore prevalentemente globali e poi ovviamente ci sono le formule miste di imprese che lavorano sia in catene del valore globali che locali. i dati sono appunto circa un 30% lavora in catene del valore prevalentemente italiane, ce n'è una su cinque che lavora prevalentemente in catene globali del valore e questo ci dà una dimensione anche di nuove formule di apertura dei sistemi appunto, dei nostri sistemi economici regionali attraverso appunto la partecipazione alle catene globali del valore. attraverso la rilevazione abbiamo provato a capire in che tipo di catene del valore operano le imprese del nord-est e che posizione occupano. I riferimenti qui ovviamente è al famoso paper di Gereffi sul governance nelle catene del valore, noi abbiamo cercato di raccogliere dell'informazione di carattere strutturale che in qualche modo riuscissero a ricondurci a questo schema in una logica un po' semplificata, ma veniamo direttamente ai dati che il tempo corre. Allora, prima questione, per stimare in che tipo di catena del valore operassero le imprese abbiamo chiesto un'informazione sul tipo di governance e quindi se le decisioni all'interno delle reti di fornitura prevalenti nelle quali operano le imprese erano concordate tra le imprese che in qualche modo appunto si avvicina, torno un attimo indietro, alla logica delle relazioni tra le imprese nel modello appunto di Gereffi, se invece le decisioni erano prese esclusivamente sulla base del prezzo e quindi sulla forma di mercato oppure se erano formulate dalle imprese leader. Sei imprese su dieci tendenzialmente dicono di operare in catena del valore dove ci sono forme di cooperazione almeno a livello decisionale tra le imprese e questo è un dato positivo anche se una su quattro appunto dichiara di lavorare in catena del valore dove il prezzo è l'elemento centrale. Secondo elemento, bene ma se il vostro principale committente, se doveste perdere il vostro principale committente, la ricerca di uno nuovo, come sarebbe? E qui emerge che tre su quattro dice difficile e questo destra qualche elemento di preoccupazione, cioè da una parte un elemento positivo, dall'altra invece è un elemento che in qualche modo fa emergere una situazione, una posizione di debolezza delle imprese appunto nordestine. Ripeto, tre su quattro dichiara che è difficile, che sarebbe difficile trovare un nuovo committente principale, sostituire quello appunto perso con uno nuovo. Terza domanda che riguarda appunto la tipologia di catena del valore e la posizione della catena del valore delle imprese, abbiamo chiesto nelle relazioni appunto con i propri clienti qual era l'elemento che contava di più e quindi conta di più il prezzo o contano di più le competenze. Qui il campione si divide in due, quindi per metà sostanzialmente conta più il prezzo, per metà invece sono relazioni in cui contano di più le competenze. Se noi sommiamo queste tre risposte viene fuori che comunque c'è un quinto delle imprese che si trova in una situazione di debolezza perché si trova in catena del valore nelle quali le decisioni sono prese o da imprese leader o sulla base del prezzo, dichiarano che è difficile trovare nuovi committenti e dall'altra parte dichiarano appunto che l'elemento di base, l'elemento più importante sull'asse prezzo-competenza attraverso il quale vengono prese decisioni appunto è il prezzo. Quindi un quinto di queste imprese, poco meno di un quinto, si trova in una situazione chiamiamo di debolezza, di rischio cattura se volete da parte del committente principale. Questo è un primo elemento di riflessione sul posizionamento appunto delle imprese, delle medie imprese manifatturiere nordestine nelle catene del valore. E qui mi richiamo alcuni dati che presentava Carlo nella prima relazione, questa logica della difesa della posizione competitiva e in qualche modo è il legame rispetto alla seconda parte di rilevazione che abbiamo fatto. Cioè abbiamo chiesto, bene, ma quali sono gli elementi, quali sono le strategie per l'upgrading? Ora qui la letteratura ovviamente è molto vasta, ci sono elementi che riguardano l'upgrading organizzativo, l'upgrading relazionale, noi ci siamo focalizzati sugli elementi se vogliamo più misurabili, legati da una parte alla digitalizzazione classica, dove per digitalizzazione classica che abbiamo inteso, soprattutto gli strumenti di relazione nei processi front-end e quindi web, l'uso dei social, strumenti di questo tipo. Viene fuori comunque che un 30% abbiamo classificato come altamente digitali, ovviamente questo è più diffuso, questo tipo di proiezione è più diffusa nelle imprese che producono prodotti finiti, quindi si rivolgono al consumatore finale, nelle imprese intermedie, quelle che sono più appunto frequenti nel nostro lavoro, sostanzialmente la presenza è un tipo di presenza appunto legata soprattutto al sito web e all'utilizzo di qualche social, sono meno frequenti le transazioni online che caratterizzano appunto la categoria altamente digitale. Abbiamo poi chiesto da un punto di vista di processi interni quali erano le tipologie di tecnologie industria 4.0 che venivano utilizzate. Vengono fuori alcuni dati insomma molto interessanti, il 51% dice usiamo l'IoT, attenzione però perché poi quando siamo andati a grattare un po' su questo dato, questi sensori che producono dati per cosa li utilizzate? Viene fuori che la maggior parte li utilizza per processi finalizzati all'aumento dell'efficienza interna più che per sviluppare nuovi prodotti o servizi per il cliente finale, quindi una dimensione appunto più di efficienza che di proiezione verso il mercato. Un dato molto interessante è quello sulla robotica, 51,1%, anche la stampa 3D che è un po' stata l'icona di queste tecnologie quando si parlava di terza o quarta rivoluzione industriale, 28,3% certo, ma anche qui siamo legati soprattutto alle attività di prototipazione interna, più che all'uso di queste tecnologie per la produzione finale che in qualche modo viene considerato un po' un elemento di passaggio, di salto verso processi più vicini al cliente. Appunto questo che era il dato che stavo citando adesso, viene fuori che appunto l'82,5% delle imprese che dichiarano di utilizzare la stampa 3D lo fa per produrre prototipi, quello che dicevo prima, sostanzialmente quindi per finalità di tipo interno legato alla prototipazione rapida dei prodotti. L'altro elemento che ricordavo prima e qui lo si vede numericamente, si usano molti, è molto diffuso l'uso di sensori per la raccolta dei dati, ma lo si fa soprattutto per aumentare l'efficienza interna. Ho segnalato un dato interessante, il 35% nelle imprese che producono beni strumentali, qui l'utilizzo trova una maggior diffusione, ma è legato al tipo di settore, ovviamente strumenti, sensori per rilevare dati servono per sistemi di manutenzione predittiva, ovviamente anche per sistemi di monitoraggio a distanza delle macchine. Questione dell'innovazione, certo innovazione di prodotto di processo l'abbiamo mappata, è molto diffusa, però c'è un dato che in qualche modo pone un po' un allarme. Comunque un quarto delle imprese negli ultimi tre anni non ha fatto innovazione di prodotto né incrementale né radicale. Qui stiamo parlando, ripeto, di medie imprese manufatturiere, 50-250 addetti. Addirittura il 37,9% non ha fatto innovazione di processo. Anche qui un dato che dovremo appunto approfondire. Scusami Gianluca, non ti ho interrotto, mancano un po' meno di tre minuti. Benissimo, mi avvio le conclusioni. In realtà questa la saltiamo perché l'ho appena detto, quindi appunto questi sono gli elementi di criticità. Proviamo a fare qualche riflessione sulle implicazioni per il territorio, perché alla fine poi stiamo ragionando di questo. Allora abbiamo ripescato alcuni, una classificazione che avevano proposto Bramanti e Fratesi ancora qualche anno fa, legato soprattutto alla questione dell'innovazione all'interno dei sistemi distrettuali e classificavano le imprese, appunto le imprese leader, quelle che riuscivano ad innovare collegando conoscenze interne ed esterne e quindi riuscivano ad agganciare circuiti esterni di conoscenze, anche internazionali. Poi c'erano le imprese Cooperative Subcontractors, quindi imprese che non riuscivano ad affacciarsi direttamente ma rimanevano in scia a quelle leader. I follower, se volete, imprese appunto che comunque sfruttavano le opportunità locali senza contribuire ai processi di generazione ed innovazione. E poi c'è questa categoria che abbiamo aggiunto noi, che è quella delle imprese unlinked, che è quella che preoccupa un po' più di tutti. Cioè imprese che non hanno una capacità di assorbimento tale per caratterizzarsi appunto come Cooperative Subcontractors e quindi che perdono l'aggancio con le imprese leader, non rimangono più nelle filiere di queste e neanche nelle catene globali del valore, ma non riescono neanche a caratterizzarsi come follower. E questo è forse il segmento più preoccupante, insomma, anche rispetto ai dati che venivano mostrati questa mattina durante la sessione, la sessione appunto plenaria. Qual è ovviamente il rischio? Quello di andare a occupare segmenti con minor barriere all'entrata, esposte alla concorrenza, soprattutto di prezzo di altri subfornitori provenienti da altri paesi, insomma, quindi posizioni competitive e decisamente meno comode. Chiudo con l'ultima cosa che è legato alla domanda dalla quale siamo partiti, quindi non è mai possibile essere felici in una catena del valore, in realtà lo sapremo solo nella seconda parte di quest'anno, perché il progetto continua appunto con l'analisi e utilizzeremo i dati di bilancio del 2020, ma che saranno disponibili dopo l'estate tendenzialmente, per incrociare le informazioni che abbiamo raccolto e la capacità di queste imprese appunto di generare valore a seconda delle formule imprenditoriali, a seconda in realtà di tutti i parametri che abbiamo visto, sia delle strategie di upgrading, ma anche delle tipologie di catena del valore nelle quali sono posizionate. Quindi, insomma, nella seconda parte di quest'anno dovremmo riuscire ad avere un'indicazione e una risposta finalmente a questa domanda appunto provocatoria. È possibile essere fornitori felici in una catena del valore. Spero di essere rimasto nei tempi. Sì, perfetto. Un attimo prima che tu dicessi spero è suonato l'allarme della fine del tempo, quindi perfetto. Allora, grazie. Ora do la parola alla professoressa Laura Chies, che è del Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche dell'Università di Trieste. Pensate che il Dipartimento è intitolato a Bruno De Finetti. Io quando vedo De Finetti non posso non rendergli omaggio, perché è un probabilista molto in gamba che amo particolarmente. La nostra relatrice adesso sposta il fuoco sulle persone e quindi analizza in particolare i nessi tra le persone appunto che lavorano e la tecnologia e l'innovazione. Ci parlerà infatti di imprese locali e innovazione, il ruolo delle risorse umane. Grazie. Forse deve attivare il microfono. Scusate. Buongiorno a tutti e ringrazio per l'invito che avete fatto a me attraverso la mia direttrice. Quindi passo subito a trattare il tema, visto il tempo piuttosto tiranno. Sì, l'idea è stata un po' questa, verificare con i dati di censimento e con i dati da Region Innovation Scoreboard quali siano le posizioni competitive più importanti, o meglio, le caratteristiche competitive più importanti riguardo in particolar modo l'innovazione della tecnologia e le risorse umane dell'area del Triveneto e poi utilizzare alcuni risultati preliminari che con un gruppo di colleghe rossi, cappellari, podrecca in primis abbiamo iniziato ad effettuare su dati originali. In questo caso andremo a fare un approfondimento sul caso del Friuli Venezia Giulia. Allora, per quanto riguarda le caratteristiche distintive che ho tratto, quindi ho tratto solo alcune, non tutte, ma quelle che appunto permettevano proprio di capire meglio quale fosse questa propensione delle imprese localizzate nell'area del Triveneto, ho riportato i dati rispetto al dato italiano, quindi ponendolo uguale a 100, giusto per dare una idea della dimensione differenziale. E cosa qui sorvolo, perché insomma molte cose sono già state dette, quello che volevo sottolineare è in particolare l'aspetto dell'incrementare gli investimenti in nuove tecnologie, in cui appare evidente come l'area del nord-est sia sufficientemente ben dotata di energie per poterlo fare, anche se vedete che i dati riguardano una differenziale inferiore al 10% ad eccezione di Bolzano, ma vedremo che Bolzano in realtà, nella provincia autonoma di Bolzano in realtà, non sembra essere a livello poi di innovazione tra le aree a più elevata spinta, diciamo se possiamo dirlo così, visto che l'Italia è un innovatore moderato, appunto è più elevata spinta di innovazione. Questo insieme alla progettazione di innovazione nel futuro, infatti qui si vede come la provincia autonoma di Bolzano sia dietro rispetto agli altri, alle altre aree, in modo particolare Trento e Veneto, ma anche il Friuli Venezia Giulia, appunto dove si dichiara che si effettueranno nuovi progetti di innovazione. In tutto questo, lo ha detto bene chi mi ha preceduto, Roberto in modo particolare, ma anche Carlo, cioè le risorse nuove aggiuntive e soprattutto l'utilizzo di alcune caratteristiche che convengono per la mia poi presentazione, sono importanti. Si vede in modo particolare come sia l'area delle microimprese nelle province autonome a richiedere risorse aggiuntive, mentre per quanto riguarda l'area, le due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia invece lo vedono un incremento soprattutto per le grandi imprese. Il problema ben specificato è quello delle qualifiche tecniche di difficile reperimento e che richiedono quindi conformazione obbligatoria. Allora, se confrontiamo questo con il dato relativo all'analisi presentata per il periodo che va dal 2011 al 2019 per i dati regionali sull'innovazione, quindi una misura dell'innovation scoreboard regionale, vediamo che il punto problematico appare essere quello delle risorse umane rispetto alle strategie di innovazione. Sulle strategie di innovazione si possono fare, le distinguono nel senso che l'area del nord-est sembra più propensa a, più adatta insomma ad esprimere in controtendenza diciamo con quello che ha detto poco fa il collega sull'innovazione di processo, di prodotto e quindi sull'output più che sull'input, dove ci sono alcuni punti diciamo buoni, di buona innovazione soprattutto per l'area Veneto, Friuli Venezia Giulia. ma quello che appunto è un problema è l'occupazione, non tanto in sé e nel settore appunto high tech e knowledge intensive quanto nella formazione e nella diciamo istruzione di base a livello terziario, quindi più avanzato, in cui tutta l'area è diciamo in una posizione di retroguardia. Altri indicatori di contesto piuttosto critici sono appunto quelli sempre rivolte alle imprese, cioè le piccole imprese innovatrici sembrano avere difficoltà nel poter attivare percorsi innovativi, così come la spesa e il ricerca e sviluppo del settore privato, mentre per il pubblico e per le pubblicazioni e quindi le relazioni a livello locale con il sistema dell'istruzione e della ricerca sembrano piuttosto buone. Tutto si assume diciamo in un indicatore globale aggregato che indica come unica regione in Italia, per il vero, per il 2019, il Friuli Venezia Giulia, da essere fortemente innovativa perché ha molti indicatori, ha una numerosità di indicatori più elevata, di crescita, la crescita vedete l'ho riportata qui sotto, tra il 2011 e il 2019 nelle attività, quindi negli indicatori di innovazione, è stata soprattutto nella provincia autonoma di Trento e in misura minore, ma comunque elevata, sia per il Veneto che il Friuli Venezia Giulia. Ha portato il Friuli Venezia Giulia a ricoprire la centoduesima posizione sulle 238 regioni che vengono indagate da questa indagine. Ecco, partendo da questo punto di osservazione, ho voluto quindi affrontare il tema delle risorse umane, ho voluto insieme alle colleghe ovviamente valutare quali siano i potenziali problemi. La letteratura ci porta ad indagare due aspetti importanti, uno che va dalla flessibilità esterna all'innovazione e l'altro, quello che segue, che va invece dalla innovazione al cambiamento strutturale nell'occupazione. Nel primo caso, cioè quello sulla flessibilità esterna, quindi l'acquisizione di nuovo personale, abbiamo visto come il tempo determinato sia maggiormente utilizzato in tutta l'area del nord-est, questo possa in qualche modo andare a favorire o a sfavorire o a disincentivare l'innovazione. La letteratura che poggia la sua osservazione sugli indicatori a favore, insomma, sembra essere determinata dal fatto che la flessibilità contrattuale, la flessibilità in entrata dei lavoratori porti a una maggiore diffusione di nuove idee e quindi a un elevato grado di innovazione, che poi se la conoscenza è pubblica e disponibile, ovviamente il tipo di contratto non, il tipo di flessibilità non condiziona il risultato innovativo ed infine la necessità soprattutto per i processi di ricerca e sviluppo di personale a tempo ridotto per qualifiche tecniche di alto profilo e questi sempre diretti al sostegno all'innovazione. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, cioè la letteratura che sostiene che invece disincentivi la flessibilità e l'innovazione, questo fa riferimento essenzialmente al filone schumpeteriano, in cui si dice che le imprese hanno bisogno di accumulare conoscenza specifica, tacita, all'impresa e quindi nel caso in cui questo non avvenga osserveremo strategie competitive basate piuttosto sui costi, quindi sul prezzo ed inoltre sottolinea l'importanza della complementarietà tra tecnologia e formazione sulla scia di tutta la letteratura americana con Asemoglu. Sul versante invece opposto, cioè ovviamente anche questo riscosso un consenso sull'esistenza di un bias nell'innovazione tecnologica che altera le qualifico le mansioni, cioè ci sono due filoni di pensiero principali, un filone di letteratura che sottolinea come sia l'innovazione tecnologica a creare cambiamenti positivi, quindi avete una letteratura sull'occupazione e sull'altra versante invece quella più recente che fa capo diciamo a Autor e Dorna per il caso americano, Comin per il caso europeo italiano, dice che invece lo sviluppo attuale dell'innovazione e delle tecnologie riduce la necessità non tanto dei meno abili quanto di coloro che effettuano, hanno mansioni di routine, quindi non dipende necessariamente dalla specifica preparazione dei lavoratori e quindi riduce il numero di middle skill. Allora, la domanda che ci possiamo opporre è che se guardiamo agli sviluppi attuali, cioè alla digitalizzazione, alla diffusione dell'intelligenza artificiale e all'adozione da parte delle imprese di progetti e di programmi di innovazione del tipo industry 4.0, allora questo potrebbe essere l'evento o gli eventi che causano il cambiamento nella domanda di qualifiche rivolte appunto più a polarizzazioni verso l'alto e verso il basso che alla perdita quindi di occupazione nelle qualifiche intermedie. Abbiamo condotto questo lavoro solo di analisi solo per i friuli Venezia e Giulia, abbiamo usato un dataset employee-employee che è stato costruito da una collaborazione tra il nostro dipartimento e Area Science Park ed è costituito da due dataset linkate, il primo è un campione di imprese di capitali che nel nostro dataset ammonta circa 10.000 unità, indagate, non indagate ma per cui avevamo i dati per il 2017 e raccolti da fonti diverse ma basate principalmente sui dati di Union Camere e l'archivio amministrativo delle comunicazioni obbligatorie per i friuli Venezia e Giulia che raccoglie invece flussi contrattuali di avviamento e cessazione per il periodo 2000-2017. Mi scusi, scusami Laura, mancano tre minuti, anzi un po' scarsetti, grazie. Sì, vado subito a descrivere quello che abbiamo ottenuto senza andare al modello, abbiamo fatto ovviamente delle stime, qui vedete 0-1, sono le imprese che non hanno fatto innovazione mentre quelle che hanno fatto innovazione hanno l'indicatore 1 e questi sono i contratti, la distribuzione di contratti a tempo determinato o indeterminato, chiaramente rispetto alla durata. E qui vedete che le imprese innovatrici sono maggiormente propense in questa parte ad assumere contratti a tempo indeterminato e quindi a suffraga l'interpretazione tipo schumpeteriano che la formazione e l'innovazione di tipo tacito avviene nelle imprese e questo viene nuovamente confermato dal fatto che i contratti a tempo determinato hanno comunque una durata maggiore. L'ultimo punto, infatti un ulteriore lavoro, è stato quello di verificare se ci sia anche una propensione verso la rutinizzazione del lavoro, quindi secondo la nuova interpretazione, tra il 2000 e il 2017 questo non sembra sia avvenuto ma piuttosto si è osservato un cambiamento tecnologico basato appunto sull'incremento degli scli più che sulla diminuzione, come si vede questi sono i tre gruppi alto, medio, basso di qualifiche nei contratti di avviamento al lavoro. Quindi la distinzione non è molto effettiva ma molto importante per quanto riguarda i più bassi e la più bassa qualifica. Se guardiamo però gli ultimi dati sull'osservatorio del mercato del lavoro per il fluo di Venezia Giulio osserviamo che ad aumentare dopo le chiusure e il lockdown nella seconda metà dell'anno sono soprattutto le qualifiche di elevata specializzazione e i profili, ancora di più, i profili di non qualificati mentre al contrario sono diminuite proprio la richiesta di qualifiche impiegatizie e quindi rutinarie anche se in GIE vi recupero. Chiaramente tutto questo ci fa propendere per un'interpretazione che vada invece nel verso nel senso di un effetto da Covid-19 e quindi di maggiore decintabilizzazione e richiesta di manzioni non rutinarie che va incontro all'idea che la relazione tra innovazione e professione sia del tipo RBPC. Mentre rimane l'importanza e quindi si spiega chiaramente il perché le imprese abbiano bisogno di personale tecnico formato perché chiaramente l'innovazione è basata sulla conoscenza tacita interna all'impresa e quindi queste sono le figure più importanti. Io finirei qui e così. Perfetto, perfetto, grazie. Grazie. Tra l'altro per me è veramente interessante questo concetto di conoscenza tacita, non lo conoscevo ma bisognerà che mi legga qualche cosa. Allora Paolo Pellizzari è professore al Dipartimento di Economia dell'Università Ca' Foscari e diciamo che con Paolo collaboriamo spesso per attività divulgative quindi oltre a studiare seriamente statistica noi anche studiamo come creare dei giochi per farla imparare in modo divertente a chi fa fatica. Adesso Paolo ci allontana ancora di più dal punto di osservazione, cioè guardiamo tutto ancora da più lontano in modo da vedere nella completezza tutto l'insieme complesso che abbiamo davanti. Un insieme in cui coesistono degli opposti, in cui ci sono delle forbici che divergono ancora di più, tant'è vero che il titolo del suo intervento è proprio complessità, risparmio e situazione post pandemia. Paolo, grazie. Marina, grazie a te, benvenuti a tutti e grazie per essere rimasti fino ad ora. Allora quello che proverò a fare io è provare a ragionare su, anche se volete, sull'esempio che è una situazione come questa per tornare a rendere concreti e se volete vivaci alcuni concetti che sono con noi da parecchio tempo. Spero di parlare correttamente di post pandemia perché sono fra le persone che ancora teme che se non ci comportiamo bene possiamo non aver ancora terminato questa storia. Che cosa si intende per sistema complesso e perché la situazione mi sembra un esempio, se volete, da manuale? Si intende per sistema complesso un sistema in cui ci sono numerosissime interazioni. Queste interazioni possono essere a vario titolo, non del tutto ovvie, possiamo parlare di non linealità oppure di cicli di feedback e quindi ciò che tu fai influenza quello che fanno gli altri, che a tua volta ha delle conseguenze su come tu agirai e infine si creano alcuni fenomeni che si chiamano emergenti, cioè anche se il concetto è tuttora oggetto di dibattito filosofico, si dice che un qualcosa emerge perché non è immediatamente deducibile dalle assunzioni che hai fatto all'inizio. Allora tipicamente vi propongo alcuni spunti di quelle che possono essere degli effetti emergenti. Abbiamo visto che l'economia va male, si parla di in Italia 9% di perdita di PIL nel 2020, però la borsa va bene, i consumi sono calati ma i risparmi nello stesso tempo sono aumentati, in modo che vi faccio vedere fra un attimo, anche la fiducia aumenta in alcune analisi dell'Istat che vi propongo, ma un quinto della popolazione non riesce a far fronte agli impegni. Allora come si fanno a mettere insieme fatti emergenti di questo genere? È interessante e se volete problematico, anche perché abbiamo filosofie di pensiero ipersemplificatorie, forse legate a frange nazionaliste e populiste, che sono troppo orientate al breve periodo, sottovalutano l'effetto di lungo termine di alcune scelte o ne sopravvalutano l'impetto mediatico e quindi questi sistemi, per dire, vedo adesso una discussione sull'apro tutto subito e RT, visto che è l'unico indicatore che sembra non andare nella direzione giusta, addirittura lo elimino come se eliminare un indicatore eliminasse ciò che misura e il tipo di segnale che ti può dare e ho qui preso una situazione che è presa in senso lato da alcuni pensieri di Mario Monti. Volevo farvi vedere come hanno reagito i mercati finanziari alla crisi e dopo un calo, qui vi faccio vedere l'indice Nasdaq dei titoli tecnologici americani e dopo un calo di circa il 40%, c'è stato veramente, e si vede chiaramente nella parte sinistra di questo grafico in verde, c'è stato proprio un rugito dell'indice che l'ha portato alla quota sostanzialmente di adesso a fine 2021. Dai minimi del lockdown duro, stiamo parlando sostanzialmente di fine marzo alla fine del 2021, l'indice dei titoli tecnologici si è sostanzialmente raddoppiato e si può discutere sulle ragioni, si può anche pensare che talvolta gli indici di borsa si disaccoppino dagli indici dell'economia reale, ma eventualmente ne parliamo per mancanza di tempo nella fase delle domande. Non è stato l'unico mercato che ha sostanzialmente cancellato l'effetto della pandemia in pochissimi mesi e fra i vari motivi ci sono state anche delle politiche, diciamo, espansive e generose. Cito il Next Generation EU, stiamo parlando di 750 miliardi, 2000 miliardi di stimolo USA e forse anche cose meno ovvie proprio per parlare di sistemi complessi. C'è stata anche un'esplosione, dicono molti autori, di un trading di tipo alternativo perché pare che moltissime persone sia in Europa che negli Stati Uniti, ad esempio i recipienti di coloro che hanno preso i sussidi negli Stati Uniti hanno 600 dollari, hanno cominciato a usarli semplicemente per inondare di liquidità anche i mercati finanziari. Parte del problema è anche che questi mercati sono andati benissimo ma l'80% della ricchezza finanziaria e azionaria globale è nelle mani di individui ad alto reddito che probabilmente sono quelli che avevano meno bisogno di ulteriori benefici in termini credituali. Se pensate che l'indice dei titoli tecnologici del Nasdaq sia un caso, diciamo, affortunato, non è così. Sorvolo su aumenti di migliaia di punti percentuali di asset class molto strane e estremamente rischiose come le criptovalute su cui probabilmente si aprirà un'altra bolla a breve ma vi faccio vedere qui esattamente la stessa dinamica, se volete però ancora più forte, ancora più violenta per quel che riguarda l'intero ecosistema delle blockchain. Anche qui a partire dal lockdown più duro quando all'incirca l'indice valeva 70 siamo saliti, i dati sono molto freschi, all'incirca il quintuplo del valore, stiamo parlando del 400% di risalita. Solo per dirvi, e qui non sto parlando di titoli particolarmente esoterici, blockchain può essere usato ed è una tecnologia promettente, avete visto un enorme aumento, possono essere usate tecnologie di questo genere anche per tracciamento, controllo di filiera e per tutta un'altra serie di operazioni decentralizzate. Un'altra asset class che potrebbe e ha beneficiato già in parte è quella dei titoli cosiddetti sostenibili, cioè quella formata da imprese con particolari qualità in termini ambientali, di scelte sociali, ad esempio benessere del lavoro e buone pratiche di governance. Allora come hanno reagito le famiglie in Italia? Allora lo abbiamo visto in più interventi, sostanzialmente si può dire che hanno ridotto i consumi e aumentato i risparmi. Questa è una lezione che ci viene, a me almeno viene, è un'idea che ci viene da Keynes, cioè non è vero che si risparmia quando le cose vanno bene per spendere, quando le cose vanno male, quando le cose vanno male si risparmia ancora di più. Questa è una cosa che ormai è diventata assodata quantunque molte politiche pubbliche fino a pochi anni fa fossero, diciamo, improntate a un'idea completamente diversa. Nell'ultimo periodo la quota di risparmio è salita al 16% mentre prima della pandemia era all'otto e ad esempio, per darvi un'idea, negli ultimi nove mesi del 2020 sono stati investiti 75 miliardi di euro in attività finanziarie, che è più del doppio di quanto era successo nel precedente periodo, solo per darvi l'idea dell'enorme capacità anche di risparmio precauzionale che è stata messa in atto dalle famiglie. Questo è anche problematico perché naturalmente si blocca la domanda eccetera. Allora in questo quadro di complessità diciamo dello scenario, che credo sia ovvia, c'è anche una marcata propensione da parte degli italiani ad essere avversi al rischio, per cui spesso hanno puntato, abbiamo puntato su impieghi sicuri e estrema liquidità. Tanto per darvi un'idea di questi 75 miliardi di ricchezza finanziaria, sostanzialmente i 6 settimi, 65 miliardi sono stati posti in depositi a vista o altre cose simili, conti correnti e simili, per cui abbiamo investito meno in fondi, meno assicurazioni, meno obbligazioni ed altri investimenti in titoli pubblici o azionari. Allora non tutto sembra andare in una direzione sbagliata perché in media ogni italiano dispone, naturalmente non sto a dire in questa sede quanto le medie siano concetti da un lato interessantissimi e dall'altro proprio concetti su cui è necessario riflettere per l'enorme disparità che potrebbe diciamo nascondersi dietro a una media. In media comunque abbiamo delle ricchezze pro capite di tipo finanziario di 72 mila euro. Vi faccio vedere adesso un'analisi che era quella che pronunciava Rina prima. Questi sono anche numeri importanti di ricchezza finanziaria media, però vi mostro come in realtà siamo inseriti in un trend in cui peraltro la pandemia che sembra un evento eccezionale potrebbe nemmeno essere appunto così straordinario come sembra. Ad esempio vedete le attività finanziarie pro capite misurate nel 2020 e 15 anni fa per Italia, Francia e Germania. Ho scelto questi semplicemente perché sono stati che nonostante le barzellette che ci diciamo sono anche molto vicini per cultura e per stile e per inciso sono due delle locomotive dell'area europea in cui anche l'economia italiana si muove e come vedete ad esempio è vero che fra il 2005 e il 2020 la ricchezza finanziaria degli italiani è aumentata da 65 mila a 72 mila ma è anche vero che mentre 15 anni fa Francia e Germania stavano parecchio sotto di noi adesso stanno parecchio sopra. Questo sostanzialmente non dipende dalla pandemia, dipende da uno o due decenni che per certi versi l'Italia ha perso almeno dal 2007-2008 non ci siamo più ripresi con la forza e l'energia di altre economie sviluppate e si vede ancora meglio se uno disaggrega questo periodo guardando a ciò che è successo prima fra il 2000 e il 2007. In questo periodo gli italiani sono stati in grado di accumulare ulteriore ricchezza per 17 mila euro mentre in Francia e in Germania ci si è fermati a 13 mila ma come vedete dopo la crisi, la prima fase recessiva del 2008 in realtà in Italia abbiamo accumulato solo 7 mila euro mentre Francia e Germania ci hanno staccato in maniera nettissima. Noi non siamo nemmeno, e parlo di esiti pre pandemia, non siamo nemmeno riusciti a tornare ai valori di ricchezza che avevamo prima della crisi mentre Francia e Germania si vede fra l'altro anche una divaricazione fra questi due stati e quindi c'è questa forbice crescente che si vede benissimo anche durante la pandemia anche se per l'appunto viene da lontano perché sostanzialmente viene da eventi o viene da una storia che ci trasciniamo da più di dieci anni. Nei primi novi mesi del 2020 in Italia abbiamo risparmiato in media 1300 euro pro capite, in Francia sono riusciti ad arrivare a 3000 e a 3300 in Germania e questi mi sembrano appunto dati che nell'ottica della complessità che menzionavo prima meritano di essere compresi proprio per evitare schemi semplificatori che potrebbero non essere adatti a qualsiasi tentativo di risolvere il problema. Se guardate anche ad alcuni aspetti come dire bizzarri ad alcune emergenze non ovvie di quest'ultimo periodo e mi soffermo sulla seconda ondata. Questi sono dati recenti dell'Istat di fine aprile che confrontano la percezione e quanto successo nella prima ondata il lockdown duro di marzo-aprile 2020 con quel periodo novembre, dicembre, gennaio 2021 la cosiddetta seconda ondata. Allora vi mostro come hanno verbalmente descritto la situazione gli italiani, ve lo mostro anche perché dal punto di vista tecnico è la prima volta che vedo l'Istat fare un'analisi di tipo text mining, testuale, hanno esaminato le parole e come si vede il numero di persone che usa degli aggettivi o usa semantemi per così dire, usa una semantica positiva è aumentato nella seconda ondata rispetto alla prima. Forse ci siamo anche abituati alla stranezza e alla difficoltà di una situazione come questa. Nello stesso tempo però... Scusami Paolo prima che tu cominci hai tre minuti. Benissimo. Nello stesso tempo... Grazie Erina che mi aiuti a mantenere il ritmo. Appunto nello stesso tempo però più di un quinto delle famiglie dichiara di avere delle problematiche. Questo ce lo siamo detti più volte anche se forse l'enfasi non è mai abbastanza. C'è un'enorme diversità, c'è un'enorme differenza di situazioni che non sono catturate ad esempio da valori medi. Come vi dicevo prima, i mercati finanziari hanno ad esempio beneficiato di un aumento del reddito medio che è ad esempio negli Stati Uniti pari al 6,5%. Sembra che le cose per certi versi vadano bene ma chiaramente ci sono famiglie che non sono in grado di pagare le bollette o le devono rimandare, saltano le rate dei mutui e un quarto delle famiglie specialmente in certi segmenti dell'Italia, ma non è una cosa che si limita al mezzogiorno, ad esempio hanno già rinunciato ad andare in vacanza. E anche questi mi sembrano dei dati che aiutano perché a fronte di politiche di sostegno che sembrano anche grazie a fondi della comunità poter essere robuste, credo che vada fatto uno sforzo per orientare l'erogazione di questi denari su alcuni segmenti che ne hanno più bisogno proprio per evitare di lacerare ulteriormente un tessuto sociale che è messo duramente alla prova da questo genere di disparità e di emergenze interne. Concludo semplicemente facendovi notare un ultimo piccolo paradosso che è quello che si ottiene quando si chiede una previsione sul futuro. Io trovo curioso se guardate le due barre sulla sinistra che si pensa che la situazione economica del Paese per più del 50% degli intervistati peggiorerà, ma nella tua famiglia peggiorerà solo nel 12.9% che sembra una specie di paradosso cognitivo che dal mio punto di vista è anche difficile da spiegare. Come posso pensare che il sistema Paese andrà in crisi se in realtà sono più fiducioso su quello che sarà lo Stato e la condizione economica della mia famiglia. Grazie per l'attenzione, spero di essere rimasto nei tempi che mi sono stati dati. Tempi perfetti, vi ringrazio, ringrazio tutti. Allora mancherebbero in teoria due minuti alla chiusura, però visto che abbiamo cominciato con un po' di ritardo vi chiedo un po' di pazienza perché sono arrivate delle domande interessanti e ringrazio chi le ha poste. Allora io ne porrei una per ciascun relatore, vi prego di essere telegrafici e per cortesia parto dai nostri ospiti esterni. Quindi Gianluca posso partire da te. Anna Maria Cecchini ti chiede, vorrei chiederle se avete condotto analisi anche sul fronte della responsabilità sociale delle imprese del nord-est e se sì, se avete notato un aumento degli investimenti su CRS dal 2011 a oggi come avviene nel trend nazionale. Allora le abbiamo fatte ma non nella rilevazione di cui ho parlato oggi, è un'altra rilevazione fatta qualche mese prima, quindi sempre nel 2020, si trova tutto sul sito della fondazione, aumentano gli investimenti siccome nel resto d'Italia e in quel caso abbiamo dentro anche l'Emilia Romagna, il nord-est istat, diciamo, e non come in questo caso invece un priveneto come invece questo. Ottimo, grazie. Laura, c'è questa domanda che è nota come nelle imprese innovatrici i contratti a termine abbiano una durata maggiore, quindi è come se queste imprese che sono più aperte al rischio perché innovare è sempre un rischio, ci fosse comunque poi più stabilità, quindi c'è come un paradosso che assumersi dei rischi porta a una maggiore sicurezza. Ci sono altre testimonianze di questo? In realtà quello che accade è che le imprese sono imprese di più grandi dimensioni, hanno un'anzianità maggiore e conseguentemente anche una stabilità maggiore, per cui la caratteristica dell'occupazione è abbastanza connessa anche alla caratteristica dell'impresa. E comunque sì, in letteratura ovviamente c'è conferma di questo fatto che l'innovazione è maggiormente collegata a periodi contrattuali più lunghi. Benissimo, grazie. Paolo questa è una domanda che ti faccio io, è un po' particolare quindi mi perdonerai. Allora ci sono polarizzazioni e divergenze e queste spesso creano ingiustizie e hanno quindi un effetto decisamente negativo, su questo possiamo essere tutti d'accordo, però non pensi che la capacità di riuscire a convivere con le contraddizioni possa in realtà essere un elemento a favore della resilienza. Rina, grazie per la domanda, che è estremamente utile. Allora io credo che, dunque, da un lato bisognerebbe che, a vario titolo, il decisore riuscisse a percepire queste divaricazioni e quindi evitasse scorciatoie che in sistemi così complessi tendono purtroppo a generare diciamo inefficienze. Cioè viceversa capisco perfettamente l'utilità di certe politiche, magari rapide, anche a pioggia ed è stata ad esempio, se ci pensate, la scelta della prima ondata, quando sostanzialmente abbiamo dato sussidi a chiunque li chiedesse. Capisco anche la necessità di erogare con rapidità se cominci a fare una serie di cose che naturalmente ti consentono maggior dettaglio, ci metti più tempo e sostanzialmente si spera che questo trade-off sia stato risolto positivamente. Io credo sì che la resilienza ha bisogno della consapevolezza che per l'appunto questo tessuto è teso e si rischia di lacerarlo senza avere la comprensione di quello che succede. Per cui suppongo che per resilienza si intenda proprio la capacità di distinguere, di fare qualcosa che è destinato ai grandi numeri, ma anche di avere la capacità prima di lettura e poi operativa per arrivare su piccoli magari, piccoli, neanche tanto piccoli se parliamo di un quinto della popolazione, su piccoli segmenti di utenti che ne hanno un bisogno disperato mentre penso a un lavoro come il mio, sostanzialmente con stipendio stabile e d'alta possibilità di lavorare in smart working, io faccio parte di quella parte della popolazione che ha avuto un aumento di reddito effettivo senza ombra di dubbio, speso meno e sostanzialmente mantenuto la mia capacità lavorativa e credituale, beh non sono una persona da aiutare in questa fase. Grazie. Allora adesso Carlo, per te questa domanda. Dai dati del censimento si ricavano informazioni sull'innovazione tecnologica dell'impresa? Scusate, era scritto in forma di domanda, quindi ci metto al punto di domanda. Ci sono questi dati sull'innovazione tecnologica e se ci sono, era già in passato, è sviluppato, si utilizzavano queste nuove tecnologie prima della crisi del Covid. Allora, attimo l'audio, ecco. Beh appunto, io rispondo per prima del Covid, quindi come posso rispondere su, posso rispondere, rispondo su questo, cioè sì, ci sono dei dati sull'innovazione tecnologica delle imprese che vengono fuori dal censimento, qualche numero per tutti, allora la quota di imprese che sono impegnate in progetti di innovazione tecnologica sono il 44% in Veneto e il 35% in Alto Adige con una media italiana del 38%. Principalmente quasi uno su due imprese sono impegnate in acquisizione di macchinari, meno su circa una su tre su acquisizione di hardware, software, formazione personale, ricerca e sviluppo solo una su quattro, più o meno, adesso senza stare a vedere le differenze. È interessante che abbiamo chiesto alle imprese anche le conseguenze del processo di digitalizzazione e un buon 70% ha risposto che una delle conseguenze è la maggiore facilità nella condivisione di informazioni e un 40% una maggiore efficienza dei processi produttivi. Quindi diciamo queste un po' sono le informazioni fondamentali che posso dare. Le piattaforme di vendita le usa circa un'azienda su dieci, ecco questo per dire, mentre nella valutazione della maggioranza delle aziende portano soprattutto benefici, cioè mantenimento, rafforzamento della propria posizione competitiva. Ecco qua qualche dato così che ho rapidamente portato. Comunque su questo c'è un approfondimento in tutti i rapporti regionali. Benissimo, grazie. E chiudiamo con l'ultima domanda a Roberto Costa a cui viene chiesto avete approfondito l'aspetto delle conseguenze dell'emergenza del covid sulle modalità di comunicazione e collaborazione digitale? Sempre sul digitale e tecnologico si rimane. Sì, nei due rapporti di cui ho parlato emerge che l'utilizzo della tecnologia ha avuto un forte impulso dalla crisi covid. Gli effetti più immediati per quanto riguarda appunto il discorso della collaborazione digitale hanno riguardato l'accelerazione della trasformazione digitale delle imprese e una modifica di certi processi aziendali come ad esempio la comunicazione interna all'impresa, quindi con lo sviluppo di canali telematici che prima non erano presenti come ad esempio le internet aziendali eccetera, anche ovviamente in un contesto di maggiore ricorso allo smart working e ad altre forme di lavoro a distanza. Allo stesso tempo è cresciuta la comunicazione all'esterno e sono cresciuti i canali di commercializzazione di prodotti e servizi. Se da un lato abbiamo visto che è emerso anche poi nella presentazione di Laura, le imprese della provincia di Bolzano partivano da un punto di vantaggio perché sono circa 5 imprese su 10 che hanno affermato di essere dotati già di connessione internet mediante fibra ottica a banda ultralarga e allo stesso tempo va notato che una quota che a seconda poi degli ambiti che abbiamo approfondito come vi dicevo tra la commercializzazione e i canali di comunicazione interna, la connessione in mobilità eccetera, c'è comunque uno zoccolo duro che varia tra il 40 e il 60% che non ha ancora in previsione il ricorso a queste dotazioni. Dobbiamo ricordare sempre che comunque si parla di un universo di imprese tra i tre addetti in su. Ok, benissimo. Allora direi che possiamo chiudere e ringrazio molto, ringrazio prima di tutto i partecipanti perché è vero che le relazioni sono state interessanti e i relatori sono riusciti a comprimerle ma sappiamo bene quanto sia impegnativo seguirle con attenzione da lontano quindi a chi ha partecipato e ci ha seguito il mio primo e più importante grazie e poi anche ai relatori ovviamente che hanno affrontato in modo così integrato e sfaccettato un tema abbastanza impegnativo. Ringrazio però anche, scusate, tutte le persone che non avete visto e che sono quelle che hanno lavorato un po' dietro. Voi sapete che dietro un video c'è un formicaio di relazioni sotterranee perché tutto funzioni bene e quindi fatemi dire che Monica Novielli, Enrico Corubolo e Fabiana Biancone si sono dati da fare tanto perché noi potessimo presentarci così come ci avete visto speriamo che sia andato tutto bene. Direi che potrei finire augurandovi buon pranzo un saluto a tutti e a tutte. Saluto a tutti. Buon pranzo. Grazie. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci. Saluti a tutti.